Finale playoff di seconda categoria tra Pinturetta e Camerino, chi vince sale in prima. Le formazioni. Il match si apre con la Pinturetta sugli scudi. Al secondo Mancini dal limite di sinistro, Marsili si salva, poi Di Modica appoggia in corner. Al decimo Di Modica al volo, solo esterno della rete per lui. Al dodicesimo grande occasione per il Camerino. Morico a tu per tu con Vallesi si fa ipnotizzare dall'estremo difensore della Pinturetta. Sull'azione conseguente nasce il vantaggio della squadra rivelasca. Tacco volante di Alessandrini che al diciannovesimo Castellucci riesce a trasformare il rete con una splendida rovesciata. È l'1-0 per la squadra di Mister Virilli. Nel secondo tempo parte meglio ancora la Pinturetta. All'ottavo tiro improvviso di Alessandrini che finisce alto. Al dodicesimo, centro di Verdecchia, sempre per Alessandrini, il suo tiro di destro al volo è ribattuto dalla difesa. Si sveglia il Camerino con l'ingresso di Remigi. Al digiottesimo, lo stesso attaccante colpisce di testa su cross di Di Modica. Il pallone sfiora il palo alla sinistra di Vallesi. Al venticinquesimo, un'uscita approssimativa di Varsili favorisce Alessandrini che però dai 40 metri non trova lo specchio della porta. Al quarantaduesimo, triplice occasione da centro aria per il Camerino. Prima per Armurico, poi il tiro di Ramadori e poi quello di Di Modica sono sempre ribattuti dalla difesa della Pinturetta. Al quarantottesimo, la chiusura del match. Uscita di Varsili che compisce con le mani il pallone fuori dall'aria. Viene espulso l'estremo difensore del Camerino e sul piazzato conseguente Mancini fa 2-0 e chiude definitivamente i conti. Pinturetta, ufficialmente in prima categoria, Camerino in attesa di ripescaccio.